Poipnotica Una canna realizzata con i nuovi carboni di casa Trabucco, il CXN Le tecnologie twist free e X-joint, ne abbiamo parlato tanto Twist free, l'antitorsione sul pedone fino al secondo elemento, sul primo anello, ad arrivare fino sul primo anello L'X-joint, quell'altra lavorazione sui giunti, che ci permette di avere una piega omogenea anche sui cosiddetti, una volta chiamati punti morti Quindi sia sul primo innesto che sul secondo L'ipnotica, come tutte le nostre nuove canne sfornate in questi ultimi tempi, è dotata anche di questa lavorazione al carbone Si chiama Sleek Surface, dove tutto in pratica scivola via, non si attacca a nulla Quindi evita che l'acqua faccia attaccare il filo sulla canna La canna monta anelli SICK SEAGUIDE a profilo K, anti-groviglio Con il famoso trattamento PBD Un trattamento contro la corrosione Gli anelli, vi ricordo sempre, sono montati su una doppia legatura Quindi l'anello non poggia sul carbonio Ma su una legatura, dove poi chiaramente viene fatta l'altra legatura per tenere l'anello Quindi proteggiamo la canna stessa ed evitiamo infiltrazioni di salsedine Quindi evitiamo la corrosione La vetta è del tipo Hybrid Tip, quindi una vetta piena, un carbone pieno, innestata su un sottovetta tubolare Per esaltare appunto le tocchie Importante un cateri frangente Su circa 40 cm della nostra vetta Che ci permette a buio con la nostra lampadina di individuare subito, vedere appunto il vettino Anche sull'ipnotica abbiamo montato la placca a slitta Fuji NS7 7 è la misura per poter montare un murinello anche con un piede sovradimensionato La placca chiaramente è in acciaio inox, quindi niente corrosione Importantissimo grip sul fondo del calcio Che ci permette di avere una presa impeccabile anche in condizioni quando piove La canna è realizzata in tre potenze 130, 160 e 200 grammi Unica lunghezza, è una lunghezza particolare 4 metri e 45 Quindi una canna adatta per l'agonista ma anche per il semplice pescatore